Oddio, eccoci, è da solo, è da solo, è da solo, non lo può sbagliare, ce n'è uno lì in mezzo, no che cazzo sbagliava quest'altro, è finita, senza parole, senza parole, senza parole, l'ho vista tutta perché non c'avevo veramente niente da vedere, è una partita chiusa, era chiusa, era chiusa, guarda qui, vabbè, feste, robe, sembrava vinto lo scudetto, chiaramente, chiaramente, cioè da 3 a 0 a 4 a 3, ma dal settantaduesimo, cioè il Frosinone era 3 a 0 al settantaduesimo, che rimonta clamorosa, ma senza senso, a caso, a caso, a caso perché in realtà i Cagliari fino al 3 a 0 si meritava almeno, qualche gol perché poi mi ricordo un salvataggio clamoroso di Monterisi sul colpo di testa di Zappo da calcio d'angolo, diverse altre azioni che alla fine i Cagliari non riuscì a buttarla dentro, il Frosinone in realtà era chiaramente in vantaggio, poi si svegli Cagliari tutto insieme con un gol clamoroso, clamoroso, di Oristanio, ragazzi, Oristanio, Gaetano Oristanio, teniamolo d'occhio, cioè è veramente fortissimo, 2002, 2002 questo, anche nella partita contro la Fiorentina, tra l'altro era stato uno dei più pericolosi, se non il più pericoloso, clamoroso me il giocatore, clamoroso, fa un gol allucinante, risveglia letteralmente il Cagliari, errore, il secondo gol, errore di Brescianini forse, che si fa rubare palla, 2 a 3, e poi da lì il delirio, il delirio, palla in aria, arriva Pavoletti, gli danno calcio di rigore, poi annullato perché si vede che Turati, vanno in salavare ovviamente perché si vede che Turati tocca prima il pallone di Pavoletti, e poi in pareggio 3 a 3, al 94esimo e al 96esimo 4 a 3 a caso, e anche adesso potevano fare addirittura i 5 a 3, ma che cazzo, che cazzo si è visto, ma che cazzo di rimonta è stata? Oh ragazzi, proprio a memoria una delle rimonte più clamorose che io abbia mai visto, più clamorose, cioè dal 72esimo, Oristanio fa gol al 72esimo, a 71 e 30, una roba del genere, quindi in 25 minuti il Cagliari fa 4 gol, in realtà ne poteva fare 5 perché Oristanio adesso tra l'altro si è mangiato, un go, era un passaggio letteralmente in mezzo che si è mangiato, clamoroso, non c'è nient'altro da dire, il Cagliari guadagna i suoi primi 3 punti, nel senso di una vittoria in Serie A, e il Frosinone che stava vincendo in ciabatte, perché al 70esimo tu sei 3 a 0, stai vincendo in ciabatte, perde clamorosamente, clamorosamente, attenzione perché questa può essere una botta psicologica importante, ovviamente sono sicuro che non sarà così, però stiamo attenti perché il Cagliari soprattutto ha preso, questa è una botta psicologica in positivo, nettamente di sicuro, perché almeno anche te hai dimostrato, soprattutto a te stesso, non tanto a quegli altri, soprattutto a te stesso, che puoi, che puoi, nonostante ti sei trovato davanti una squadra non fortissima, però comunque che sta dicendo tanto alla Serie A e che è molto organizzata, anche a livello diciamo di gioco, comunque il suo allenatore che crea tanto gioco in avanti, con tanti ragazzi giovani, sei riuscito a rimontare una squadra del genere, puoi fare letteralmente qualunque altro tipo di partita, perché non è scontato niente dopo la partita di oggi, per il Cagliari perlomeno. Diciamo che secondo me ragazzi quest'anno la lotta a salvezza sarà veramente bella, perché ci sono tante squadre lì che rischiano tanto quest'anno come Verona, come l'Empoli, come l'Udinese, come la Salernitana, come il Cagliari, ce ne sono tante, ce ne sono tante, secondo me ragazzi quest'anno la lotta a salvezza sarà veramente veramente bella, di sicuro molto più avvincente di quella che sarà la lotta a Scudetto, però comunque a parte questo ragazzi, clamoroso, clamoroso, me lo sarei mai aspettato, ho visto i gol, clamoroso di Ristanio, e ho visto diciamo l'euforia uscire fuori dal secondo gol, che poi alla fine è un errore di Brescianini, da lì ho detto vai, questi la rimontano, cioè è stato proprio il mio primo pensiero, perché poi tutti in avanti, rigore, stava esplodendo lo stadio, poi annullato, quindi depressione totale di tutti, e poi il 3-3 il 94esimo, cioè non alta lena d'emozioni, di più, di più, un rollercoaster di Gardaland, però clamoroso ragazzi, veramente veramente clamoroso, ogni tanto mi piace anche guardare diciamo queste partite perché sono sicuro appunto come è stato oggi, ero sicuro che non sarebbe stata una partita banale, perché sono due squadre che comunque sulla carta si equivalgono, anche se stanno facendo un percorso di campionato diverso, perché il Frosinone sta facendo un campionato clamoroso rispetto al Cagliari, che è in netta difficoltà, ma a livello di Rosa, a livello comunque di, insomma sì, di formazione in campo, di Rosa, di valore, di squadra, dei giocatori, si equivalgano, quindi sarebbe stata una bella partita, visto che comunque il Cagliari in casa, a prescindere dal fatto che quest'anno sta andando male, ma da sempre il 100%, e oggi ragazzi, senza senso, 4 go in 25 minuti, boh, pazzesco l'amoroso.